Dopo la grande partecipazione cui abbiamo assistito nei primi due giorni del festival, domenica ci sarà una giornata ancora più ricca e cominciamo sempre al mattino con questa dimensione anche di piacevolezza e di valorizzazione dei prodotti erogastronomici del nostro territorio, della cucina storica, in questo caso della pasticceria dell'Ottocento Piemontese Lombarda, quindi col breakfast in museo che è abbinato a una visita guidata tematica del nuovo Museo Manzoniano che come ormai penso tutti sanno è stato completamente riallestito alla fine del 2019. Verso le 11 però ci sposteremo per andare a Pescarenico a Piazza Era nell'area tradizionalmente indicata come Dio Monti dove ci sarà un evento che vogliamo il più possibile corale, popolare per tutti senza nessuna necessità neanche di prenotazione che vorrà essere anche il momento di inaugurazione del nuovo percorso di pannelli di postazione che abbiamo realizzato, stiamo realizzando da alcuni mesi e nei principali direi quasi tutti i luoghi manzoniani della città. Contemporalmente ci sarà un laboratorio didattico per i bambini e invece al pomeriggio ci rispostiamo a Villa Manzoni con il Tea Time in Villa che sarà sicuramente l'occasione magari di maggior impegno culturale ma sempre una chiave molto piacevole e divulgativa, agliettata all'intervento di una bravissima attrice lechese, Giuseva Sena, che leggera brani di un romanzo, un romanzo che è appunto l'argomento del primo incontro uscito da poco tempo, che si chiama Caterina Medici di Brono, di Broni in realtà voleva dire, scritto nel 1831 da Achille Mauri che era un giovane erudito che frequentava a casa Manzoni. Il Tea Time riprenderà con una seconda presentazione, anche qui con l'intervento di Gianfranco Scotti che ne leggerà alcune parti, presentazione di un nuovo romanzo, romanzo che è stato scritto da Gianluigi D'Acco. Finiamo con un'apertura invece al massimo verso la lettura più possibile moderna e contemporanea del patrimonio, del pensiero di Manzoni, al Teatro dei Capuccini con l'incontro con Morgan che ci racconterà il suo modo di vedere Manzoni e di riecheggiarlo anche non solo con pensieri e parole ma anche con canzoni e musica.